Il talentuoso Nino Lettieri apre l'ultima giornata dell'alta moda capitolina con una collezione a dir poco superba, giovane, fresca e sexy quanto basta per mettere voglia d'estate di esibire gambe abbronzate sotto i mini pants dal taglio perfetto e tette al vento accarezzate dagli impalpabili pizzi delle tere bluse capolavoro di alta sartoria. Come anche la petite robe tutta un gioco di allegre sovrapposizioni da accompagnare con la muscola pochette nera di perline che termina con un grande fiocco di raso e che dire delle scarpe cose assolutamente impensabili oggetti dal desiderio da cui fioriscono superbe le gambe sotto appunto questi mini perfetti pants.